Abbiamo avuto una donuncia precisa da parte di un imprenditore che è stato estorto in qualche modo. Si è rivolto al presidente dell'associazione antiracket a cui apparteneva, che era l'associazione antiracket di Gela, che gli ha consigliato vivamente di rivolgersi ai carabinieri e poi recarsi in procura per raccontare questi fatti. Questo imprenditore aveva già vinto un appalto, quindi stava iniziando a svolgere la propria attività, che era la raccolta differenziata dei rifiuti di Naro. aveva vinto una gara in maniera pulita, non comprendeva perché avrebbe dovuto pagare qualcosa che non era dovuto. E quindi si è rivolto ai carabinieri della stazione di Naro, che hanno avviato questa attività. La procura della Repubblica di Algrigento ha messo a disposizione il proprio gruppo specializzato di reati contro la pubblica amministrazione. Abbiamo fatto delle attività di indagini anche tecniche, quindi un'intercettazione ambientale, audio e video, che ha riscontrato il contenuto di questa denuncia e quindi a neanche un mese dalla denuncia dei fatti abbiamo avuto questa ordinanza di custodia agli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Agrigento. Francesco Lisinicchia, 49 anni, ex assessore del Comune di Naro, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri e posto ai domiciliari con l'accusa di tentativo di indebita induzione a dare o promettere somme di denaro. Ad eseguire l'arresto i militari della compagnia di Licata e della stazione di Naro, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Agrigento, a coordinare le indagini la locale procura della Repubblica. I particolari dell'operazione che ha portato all'arresto di Lisinicchia sono stati resi noti stamani nel corso di una conferenza stampa alla procura alla presenza tra gli altri del procuratore aggiunto Salvatore Vella, del sostituto procuratore Chiara Bisso e del comandante dei carabinieri della compagnia di Licata, Francesco Lucarelli. Il provvedimento, ricostruiscono dal Comando Provinciale dei Carabinieri, fa riferimento ad una serie di presunte pressioni esercitate dall'ex amministratore quando era ancora in carica nei confronti del titolare della ditta concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti, al fine di ottenerne la promessa di stipula di un contratto di guardiania per oltre 65 mila euro annui a favore di un compiacente istituto di vigilanza privata del palermitano. In sostanza, secondo i militari, Lisinicchia avrebbe voluto favorire un istituto di vigilanza privata e per farlo avrebbe anche attuato delle velate minacce nei confronti della ditta. Provvedimenti sanzionatori a fronte di generiche e fantomatiche mancanze nell'assolvimento del servizio di raccolta. Per gli inquirenti, l'ex assessore con delega all'urbanistica, all'edilizia pubblica e privata, ai rifiuti e al servizio idrico integrato, avrebbe fatto allusioni a possibili danneggiamenti dei mastelli destinati alla raccolta differenziata del valore di circa 90 mila euro. Avrebbe suggerito al titolare di ricoverare nelle ore notturne, si legge del comunicato, i mastelli allo scopo di proteggerli da eventuali fantomatici danneggiamenti. Queste, secondo la ricostruzione dei carabinieri, le armi utilizzate dall'uomo per ottenere la firma del contratto a favore della ditta privata di vigilanza. Le indagini nei confronti dell'ex amministratore sono partite dalla denuncia fatta dalla titolare della ditta concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti nel comune di Naro. Gli inquirenti, per fare piena luce sulla vicenda, ci sarebbero avvalsi di microspie e analizzato documentazioni. Abbiamo fatto un'attività tecnica audio-video che ha permesso di cristallizzare al meglio tutto il quadro probatorio che ha consentito poi al GIP di emettere la misura cautelare. Se abbiamo chi mette la faccia raccontando fatti che sono veri, la risposta dello Stato anche in questo territorio è pronta. E stamattina quell'imprenditore e quell'azienda sono a Naro che lavorano, quindi non hanno paura, non siamo fuori dal mondo. Noi possiamo essere una realtà normale. Lettere come queste, cioè lettere anonime in cui, senza metterci la faccia, si dichiarano fatti, dovrebbero essere ormai il passato. Quello che vogliamo sottolineare è che oggi chi viene a denunciare o alle forze dell'ordine o direttamente in procura, fatti anche gravi, anche che coinvolgono personaggi importanti, hanno e trovano una risposta. Questa è la strada. E faccio un appello anche alle varie associazioni anti-racket che esistono sul territorio. Si è successo negli incontri sulla legalità, nell'attività anti-racket, se dalla lamentela generica si passa alla denuncia per isolare chi commette reati e consentire ai politici onesti che in questo territorio ci sono, ai funzionali pubblici onesti che in questo territorio ci sono, di fare il loro lavoro nella tutela degli interessi pubblici. Grazie. 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 Grazie.